Sono 251 su 404 i comuni calabresi pari al 62,12% che hanno trasmesso al catatore giornale rifiuti presso l'ARPACAL le schede per la quantificazione dei rifiuti urbani e rifiuti differenziati per l'anno 2018. Il termine di scadenza per l'invia delle schede era stato fissato al 5 maggio ma alcuni comuni in considerazione del fatto che al 22 giugno sarebbe scaduto il termine per l'invio del modello dichiarazione unica ambientale alle camere di commercio hanno erroneamente considerato quest'ultima data come riferimento per l'invio delle schede all'ARPACAL. Occorre precisare infatti che ogni comune è stato chiamato a compilare una scheda dati predisposta dall'ARPACAL e sulla base di quanto regolamentato da una delibera di giunta regionale del 2017 l'invio del MUD da parte dei comuni è valutato come aggiuntivo. Ciò significa che un comune ipoteticamente avrebbe rispettato in pieno quanto previsto dalla delibera inviando anche soltanto la scheda ARPACAL. Fermo restando questo misunderstanding tali dati come ogni anno saranno ora elaborati per realizzare il report regionali rifiuti documento ufficiale che fotografa lo stato dell'arte nella diffusione comune per comune della raccolta differenziata in Calabria. Per la provincia di Cosenza hanno trasmesso la scheda 111 comuni su 150 per la provincia di Reggio Calabria 42 su 97 per Catanzaro 48 su 80 per Vibo Valencia 32 su 50 e per Crotone 18 su 27. I comuni calabresi oltre a inviare i dati suddivisi per categoria merceologica e quindi per codice ER, nuova denominazione dei vecchi codici CER, sono stati invitati ad indicare le piattaforme presso le quali hanno effettivamente consegnato quella tipologia di rifiuto differenziato. Ciò permetterà controlli incrociati più efficaci ed una speditezza maggiore nella verifica dei dati trasmessi dai comuni. In mancanza di questo dato ha comunicato il catasto rifiuti in una lettera ai comuni calabresi il quantitativo di rifiuti indicato sarà escluso dal conteggio.